Donare meno, ma donare quello che serve davvero perché nulla nel grande moto di solidarietà nei confronti delle popolazioni che fuggono dalla guerra in Ucraina vada sprecato e gli aiuti arrivino davvero al cuore del bisogno. Dopo il viaggio al confine da cui è tornato con 45 profughi, donne e bambini, in buona parte oggi ospitati a Tortona, Don Pietro Sacchi, orionino parroco di San Pietro a Voghera, fa il punto su ciò che serve davvero e illustra il progetto Uscita di Sicurezza che ha messo in rete, tra gli altri, grandi magazzini della tecnologia e dei giocattoli per regalare oggetti davvero utili e un po' di normalità. Cosa serve? Perché poi questo è un tema importante. Non è semplice aiutare. Perché il rischio di leggere, aiuto gli altri perché ho roba in più che a me non serve, non è detto che sia l'aiuto giusto. Abbiamo delle persone che vivono esattamente come noi, i cui bisogni fondamentali sono per esempio la tecnologia. È la tecnologia che funziona. Perché se il figlio di 11 anni è qui con loro, quello di 16 imbraccia un fucile. Il papà che è a casa, che è là che porta l'acqua e serve, come abbiamo letto di quell'avvocato che è passato dal fare l'avvocato al portare l'acqua a chi è al fronte, è là che ha bisogno di vedere la faccia dei suoi figli alla sera. E quindi una donna che scappa e rompe il telefonino intanto che scappa, era qui e non ce l'ha. Le manca un pezzo, le manca un pezzo più prezioso dei vestiti. Se tu fai una raccolta di tecnologia usata sicuramente non l'aiuti. Allora si è pensato di istituire la possibilità di donare dei buoni presso dei centri che tra Voghera e Tortona hanno fatto la cordata. E parlo di Media World, parlo di Euronics, parlo di Troni, parlo di negozi che hanno accettato la possibilità di donare una cifra basica come può essere 10 euro, per cui anche non si chiede molto alla gente, si chiede quello che vogliono, ma di farlo in modo intelligente. Per cui io compro un telefonino di ultima generazione, non necessariamente di marca, ma che funziona e che permette a quella mamma di vedere suo figlio. Questo è un aiuto intelligente. istituisco un IBAN, come abbiamo fatto, che permetta alle persone di donare 10 euro, 20 euro, 100 euro, 1000 euro, quello che vogliono, per sostenere con 3, 4, 5000 euro il costo di un viaggio di 50 posti che sta via tre giorni con tre autisti. Questo è l'aiuto che serve. Ti metto in condizione di andare alla Toys di Voghera Est ad acquistare delle gift card di 10, 20, 30 euro, metterle nella scatolina del progetto, che adesso diremo come si chiama, e di regalare al bambino non solo un giocattolo nuovo, ma la possibilità di partire da Tortona col pulmino dei volontari, farsi un giro in un negozio con la sua mamma, senza temere delle bombe che gli cadono in testa, scegliersi il giocattolo e passare una giornata diversa. Penso che regalare una ventata di normalità anche con poco sia la cosa da fare adesso e quindi regalare l'essenziale, farlo bene e far sentire queste persone a casa. Esiste anche un numero che mi piacerebbe donare a chi ci guarda per comprendere meglio forse a livello informativo che cosa si può fare, ma soprattutto per segnalare la possibilità di accogliere persone. Certamente il loro desiderio più importante è quello di tornare a casa loro, ma come vedete stiamo navigando a vista e non abbiamo la più pallida idea di che cosa possa succedere. Nell'immediato certamente occorre un'accoglienza d'emergenza, ma occorrono anche sistemazioni e soluzioni più definitive e non a breve durata.